Ciao a tutti, un interessante quesito che mi viene posto è sulla mira, ne abbiamo parlato, però sulla mira c'è sempre un grosso enigma. A mio modesto parere, già dal corso base, dai neofiti, si dà troppa importanza alla mira. La mira intanto non è un fondamentale del tiro con l'arco, anche se a livello più che altro leggendario, più che altro popolare, sembra che la mira sia la cosa più importante nel tiro con l'arco, ma non è un carattere fondamentale. I caratteri fondamentali del tiro con l'arco sono equilibrio statico, equilibrio dinamico, allineamenti, contatti, ritmo, decisioni. La mira non è altro che un passaggio tra questi fondamentali, ovviamente verso la fine, dopo l'ancoraggio, durante l'espansione, durante l'acquisizione con i muscoli dorsali di un buon equilibrio dinamico, quindi una buona spinta e trazione sul piano verticale, avviene, accade, accade. La mira deve accadere. La mira avviene. Quando un arciere neofita impara a tirare, gli mettiamo per la prima volta l'arco in mano, non gli diciamo di mettere la punta della freccia, di mettere tantomeno il mirino, ma il neofita andrà in mira, guarderà il punto da colpire, andrà in coraggio e lascerà andare la freccia. E la freccia andrà sicuramente nei pressi del centro, perché siamo vicini, abbiamo indicato con la mano il centro da colpire e quindi deve avvenire. La mira scaturisce, da buon, da neofita, scaturisce dentro di noi. E questo istinto che effettivamente noi abbiamo di mirare con l'inconscio va a perdersi, perché ahimè gli istruttori subito indicano come la mira sia importante, come sia importante mantenere il mirino nel giallo, come sia importante mantenere la punta della freccia nel giallo. E questo ahimè porta a disgregarsi un po' quello che è, secondo me, una grande importanza che avverrà dopo. Una volta che io ho acquisito la tecnica, una volta che ho acquisito una buona tecnica, la mira non mi deve portare via quella consapevolezza, quegli automatismi, che faranno di me delle grandi performance. Quindi, cosa consiglio io? Io consiglio di avere un approccio alla mira molto più easy, molto più semplice. Quindi noi guardiamo il centro del bersaglio, ma ci confrontiamo molto di più con noi stessi. Quando noi guidiamo, abbiamo preso la patente, tutto ci sembra difficile. Ma poi, con l'andare del tempo, se non continuiamo a guardare dove mettiamo le ruote con l'andare del tempo, ma guarderemo 100 metri avanti, le ruote andranno per contro loro, il volante verrà manovrato in modo fluido. Quindi non continuiamo ad avere attenzione su quello che sono delle cose che devono scaturire dal nostro subconscio, che devono scaturire automaticamente. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Noi non dobbiamo affinare il controllo della mira. Noi dobbiamo affinare il controllo delle catene cinetiche, che sono legate a un'espansione accurata, a un buon equilibrio dinamico, a dei buoni allineamenti e dei buoni contatti. Ok? Quindi noi dobbiamo guardare il centro del bersaglio, quello che dobbiamo accorpire, rilassare tutto cosa c'è da rilassare, avere un buon equilibrio dinamico e rilasciare la nostra freccia. La mira avviene per naturalezza. Noi sappiamo che l'intenzione di colpire formerà la mira, la formerà in modo automatico. Non ci preoccupiamo di questo. Impegniamoci ad avere una buona tecnica di tiro, un buon allineamento. Noi non possiamo continuamente tirare in questo modo, non allineati, in questo modo qua. Non possiamo tirare. Non possiamo tirare in questo modo. In questo modo non si può tirare, perché la freccia andrà sempre in modo caotico. Anche se noi fossimo in grado di tenere la punta perfettamente nel centro, il nostro gesto, la nostra forma di tiro è caotica e renderà caotico l'impatto della freccia sul bersaglio. Quindi noi dobbiamo assolutamente investire con un buon istruttore una buona forma di tiro e questa forma di tiro farà accadere la collimazione, la collimazione deve avvenire nel nostro interno, non là, non sul bersaglio. La collimazione deve essere in terra. La dobbiamo percepire, la dobbiamo percepire dentro di noi. La dobbiamo percepire con un buon allineamento. E la freccia andrà perfettamente nel centro. Ok? Provateci. Nei commenti fatemi sapere se devo essere più esaustivo. Ma anche su questi argomenti ovviamente ci va un buon istruttore. Ci va un buon istruttore oppure bisogna partecipare a qualche seminario, a qualche corso nel quale si possa provare, si possa verificare bene tutte le situazioni che si vengono a creare durante l'approccio alla mira. Ok? Grazie di tutto. Alla prossima.